L'acqua bene, prezioso e fonte di vita, acqua simbolo di iniziazione, elemento della purezza della madre che accoglie in grebo il suo bambino, del battesimo, allegoria della rinascita. L'Abruzzo è una regione in rigua i cui corsi d'acqua hanno da sempre rappresentato una delle principali fonti di ricchezza e a Pescara, città in cui il primo insediamento fu fondato intorno a 6.000 anni fa, proprio alla foce del fiume Eterno, vi dà luce uno dei frutti migliori della regione Gabriele D'Annunzio. Dalla nascita all'immortalità, 10 tappe per unire idealmente ma anche materialmente attraverso l'acqua di Casa D'Annunzio, Pescara a Gardone Riviera. Per il 150esimo anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, 50 anni dopo l'impresa dell'equipaggio del motoscafo Mizzar 2 dei pescaresi Luigi Baldacci e Romano Di Bernardo, un altro equipaggio, quello del Ghibli, formato da Michele Laganà e Francesco Di Filippo, ripercorrerà il ride nautico che nel 1963 festeggiò i 100 anni dalla nascita del Vate. 325 miglia lungo lo stivale, in 10 tappe per omaggiare lo spirito del poeta pescarese appassionato di motori e velocità. Fu lui a stabilire in Italia, tra le tante varianti che allora si usavano, che la parola automobile fosse di genere femminile. Lo fece in una lettera inviata a Giovanni Agnelli, che gli aveva posto l'annosa questione. L'automobile femminile, scrisse, questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice, ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza. Sabato 27 aprile, dunque alle 10, presso il circolo Canottieri-La Pescara, avverrà la consegna simbolica dell'imbarcazione Ghibli. Motoscafo, costruito all'epoca del centenario d'Annunziano, appositamente recuperato nel 2012 dall'affondamento nel porto di Pescara e restaurato come omaggio marinaro al Vate. Seguirà la cerimonia dell'acqua con la consegna all'equipaggio dell'ampolla dell'acqua prelevata dal pozzo di casa d'Annunzio a Pescara Vecchia. Alle 11.30 poi è previsto l'arrivo della prima tappa presso la banchina sud del Marina di Pescara. Successivamente il Ghibli toccherà le città di Porto San Giorgio, Ancona, Riccione, Ravenna, Comacchio, Ferrara, Mantua, per poi approdare a Gardone Riviera il 7 maggio, dove al Vittoriale degli Italiani l'equipaggio sarà accolto dal sindaco di Gardone e dal presidente della fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri.